Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Come potete vedere oggi andremo ad aprire 10 pacchetti di figurine delle Gorgius. Sono i secondi, diciamo, 10 pacchetti che acquisto e vediamo se anche stavolta sono fortunata. La prima volta con l'album più i 5 che c'erano dentro e gli altri 5 che ho comprato avevo trovato soltanto 4 doppie. Vediamo se stavolta sono fortunata. Allora, io partirei subito dal primo. Iniziamo. Questa, forse lo... non mi ricordo. Poi questa... 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 e questa è una delle speciali... e no, forse non ce l'ho, ma anche se doppia, ricordo, le speciali vanno benissimo. Poi andiamo col secondo pacchetto. Terzo pacchetto. Allora, questo... sono riuscita bene o male ad aprirlo bene, lo tengo da parte perché può servire per una decorazione. Allora, abbiamo questa... poi questa delle speciali, che sono sicura di non avere perché non l'ho vista l'altra volta. Poi c'è questa e questa. Devo dire che sono sempre molto belle. Poi andiamo con il quarto pacchetto. Ne abbiamo questa. Il pinguino. Questa. I stivaletti. Questa sono sicura di averla già trovata. E questa. Quinto pacchetto. Abbiamo questa. Questa che è doppia. Questa di stoffa. Questa e questa qui. Sesto pacchetto. Abbiamo... uh, che bella la sirena. Ricordo che ci sono sempre delle parti in foil. Poi abbiamo questa. Questo. Uh, che corino anche guasa con i cuoricini. E questa con i fiocchi di neve. Sesto pacchetto. Abbiamo questa che è speciale, ma mi sa che è doppia. Poi abbiamo questa. 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 E questa. Poi ottavo pacchetto. Se riesco ad aprirlo. Allora. Abbiamo una. Questa. Questa faccia di panda. Questa. Mamma mia. Sono troppo belle. Sono stupende anche queste figurine, ragazze. Se non le avete ancora acquistate e volete acquistare, andate a prendere perché sono stupende. Questa è un'altra speciale. Poi abbiamo questa. 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 E questa. E l'ultimo pacchetto. E poi andiamo a fare il punto della situazione. Allora. Abbiamo questa. Questa a tema Halloween. Questa. Questa speciale. E questa. Bene. Adesso vado a vedere quali ho doppie. Che così vi faccio vedere se sono stata fortunata o meno. Allora. Questa volta è stato un po' più un disastro. Nel senso che ho trovato alla fine sono 13 le figurine doppie. E una di quelle speciali. Però ripeto, speciali non mi interessa se sono doppie. Allora. Quindi su 50 figurine ne ho trovato 13 doppie e una speciale doppia. Per cui in totale 14 doppioni. Su 50. La raccolta. Adesso io ho attaccato tutte quelle che non avevo. Adesso ne ho 74 su 156. Praticamente ho con 20 pacchetti ho fatto metà album. Quindi diciamo che alla fine comunque è abbastanza buono come risultato. Perché praticamente ho su 100 figurine di doppie. Ne ho in totale 17 più 4 di quelle speciali. Scusate 17 più 2 di quelle speciali. Quindi 19. Quindi alla fine non sono neanche tantissime. Mi è andata bene insomma la prima tornata. Questa è un pochino meno. Però alla fine devo dire, comunque posso dire di essere lo stesso soddisfatta. E niente. Quindi per questo video è tutto. Al momento non faccio ancora una stima di quelle che mi mancano. Perché sono ancora tante. Magari la prossima volta. Se riesco ad arrivare almeno una trentina. Posso iniziare già a mettere giù la lista di quelle che mi mancano. Io vi ringrazio per avermi seguito. Vi saluto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!